Il prossimo intervento è quello di Alessandro Bonifazi, Politecnico di Bari, direi che ne ha pieno titolo in questa giornata in cui la Puglia è sommamente rappresentata, visto che è la seconda città pugliese, quella in cui ci troviamo oggi. In effetti sono ospite di amici pugliesi che abitano a due passi da qui. Sì, in effetti io volevo approfittare della possibilità di seguire diligentemente il tema di questa specifica sessione, allontanandomi leggermente dal contenuto del... del contributo che quest'anno pubblichiamo sul rapporto nazionale curato da CRCS e che riguarda uno specifico indicatore, un indicatore di dispersione urbana che è stato già più volte evocato, per cui avremo sicuramente piacere in questo mio breve intervento di condividere con voi anche la nostra esperienza in merito a quello specifico strumento. Però ci tenevamo anche a invitarvi ad una riflessione, così nell'ottica di far parte di una comunità di pratiche un po' più generale, su che cosa significhi provare a dare un senso alle misure di consumo di suolo. Questo è un tema che è stato anch'esso ricorrente in questa giornata di approfondimento. E vorremmo farlo dal punto di vista di un piccolo laboratorio di ricerca applicata, costituito, come ha ricordato Carmelo Torre questa mattina, presso il Politecnico di Bari, che si è concentrato anche e soprattutto sul consumo di suolo e che però da sempre ha avuto dei contatti molto stretti sia con le organizzazioni della società civile che con gli enti di governo del territorio. E quindi si è dovuto chiedere costantemente a cosa servissero quei metodi di valutazione, di monitoraggio e in parte di pianificazione che cercavamo di sviluppare. Volendo sintetizzare l'esito di questo percorso che dura ormai da quasi cinque anni, sarei portato a dire che, almeno da parte nostra, se c'è un indicatore definitivo del consumo di suolo, noi non l'abbiamo trovato. Ne abbiamo identificato una regola aurea in questo senso, se non quella della necessità di assumere un approccio riflessivo, iterativo e adattivo, perché, come cercherò di sostenere con alcuni brevi esempi, altrimenti si corre il rischio di ritenere che le misure siano autoesplicative e che quindi ci sia una sorta di sordità e cecità da parte delle amministrazioni della società civile inspiegabile. Non è così, perché le misure non sono autoesplicative. Ci sono descrizioni plurali dei processi di territorializzazione. Se non si ritorna, se non si mettono al centro i processi di territorializzazione, si corre il rischio probabilmente di favorire dei malintesi piuttosto che di sgombrare il campo da essi. Il caso di Bari è abbastanza interessante, perché nella maggior parte dei rapporti nazionali la città di Bari, in particolar modo, viene additata come una di quelle in cui il fenomeno del consumo di suolo è più acuto. In effetti, se vi concentrate un attimo sulla colonna rossa a sinistra, la prima, sembrerebbe ampiamente giustificata questa opinione, nel senso che la percentuale di suolo consumato, a seconda delle definizioni che adottiamo, a Bari varia fra il 40 e il 50%. 40, diciamo, se usiamo l'impermeabilizzazione, a seconda dei vari repertori disponibili. 50, se invece ci riferiamo alle superfici artificiali, secondo la più recente carta tematica di uso del suolo disponibile, che è quella del 2011. Questo punto sarà anche aumentata. Tuttavia, a livello descrittivo, se ci fermassimo a questa descrizione, saremmo portati, come dicevo prima, quasi automaticamente, a giudicare il modello di governo del territorio, adesso, insomma, banalizzo e semplifico un po', che ha portato alla crescita urbana di Bari come il peggiore in Puglia, come quello che ha determinato il maggior consumo di suolo. Se però spostiamo lo sguardo sulla seconda colonna per ognuna di queste città, in particolar modo per Bari, osserviamo che in termini di consumo di suolo pro capite, Bari, la città più virtuosa della Puglia, consuma una quantità di suolo per abitante inferiore alla media nazionale e pari a meno della metà, cioè sono circa 180 metri quadri per abitante, pari a meno della metà di quello che in letteratura scientifica viene ritenuto quasi una soglia fisiologica per il contesto europeo. Questo ci deve, a mio avviso, appunto, invitare a mantenere sempre una capacità critica nei confronti delle rappresentazioni, dei fenomeni territoriali in genere, del consumo di suolo in particolare, che ci vengono offerti da singole metriche. Ovviamente, appunto, perché non ci si deve fermare? Bisogna stare anche attenti a chiedersi il perché. Cioè, parte di questa, come dire, di questa virtù che la città di Bari può rivendicare se utilizziamo come metriche il consumo di suolo pro capite, ovviamente è avvenuta al discapito di una qualità degli insediamenti urbani dovuta ad una elevata densità nelle aree più centrali. E potrebbe essere mantenuta, perché anche di questo si è parlato, cioè Michele Munafo ricordava come negli ultimi sei anni le densificazioni siano in qualche modo state prevalenti rispetto ad altre forme di crescita urbana. E se questo avvenisse anche in un territorio come quello di Bari, probabilmente si andrebbero ad erodere quegli spazi, come vedete nella parte bassa di questa immagine, che fondamentalmente sono residui di area standard nelle zone di più recente realizzazione, e quindi siamo comunque in un'area centrale, però diciamo leggermente più periferica, che invece, semmai, avrebbero bisogno di essere attuate in modo compiuto. E quindi anche nella valutazione delle performance dal punto di vista stretto del consumo di suolo, la qualità urbana in senso lato non può essere messa fra parentesi. Continuando su questo binario, diciamo, noi abbiamo cercato di inseguire una coerenza fra il senso specifico che si dovrebbe attribuire sempre in modo esplicito alle misure di consumo di suolo, cioè perché si costruisce e si propone l'uso di un indicatore, quale obiettivo specifico si sta perseguendo, e più in generale quel tema profondo che probabilmente, diciamo, sottende tutto il nostro operato, che è quello con un gioco di parole, invece di contribuire a ripristinare un senso della misura, cioè una forma di governo del territorio virtuoso. Un modo per farlo può essere guardare, anche questo è stato ricordato più volte, anche negli interventi, per esempio, dei colleghi dell'Istat, guardando al patrimonio abbandonato, sottutilizzato. Quindi in questo grafico, ad esempio, abbiamo messo in relazione i comuni che presentano un consumo di suolo pro capite più elevato, cioè in tutti i comuni mostrati in questo grafico, il consumo di suolo pro capite è superiore a mille metri quadri per abitante, ricordavo che a Bari è inferiore a 200 metri quadri per abitante. Abbiamo provato a, diciamo, cercare degli schemi, dei pattern che ci dicessero, oltre a quello più banale che vi dico, non cito, però è abbastanza noto, cioè la dimensione demografica, cioè tutti questi comuni hanno una dimensione demografica modesta, questo è noto, è stato abbastanza testimoniato in tutta Italia da diversi autori. Ne abbiamo cercati altri, il primo è stato la consistenza del patrimonio delle abitazioni, in particolar modo, che si sono dati gli Istat non occupate, però in realtà, come vedete, c'è un'estrema variabilità, per cui, sebbene in base al solo dato dell'elevata superficie artificiale pro capite, sembrino profilarsi i sistemi territoriali, perché molti di questi comuni appartengono al subappenino da Auno o al Basso Salento, ad esempio, e altri potrebbero essere raggruppati in termini di comuni a vocazione turistica o piuttosto di aree interne, la consistenza del patrimonio abitativo non occupato non è di aiuto. Allora, abbiamo tentato, e anche di questo si è parlato oggi, lo citava, dati complementari che possano aiutare a ricostruire il grado di intensità d'uso delle superfici artificiali, dei tessuti urbani. Ne abbiamo cercato uno, fra quelli disponibili, perché qui il vero problema è un relatore di Ersaf Lombardia citava i dati sul consumo energetico. Certo, sarebbero molto interessanti, però tendenzialmente non sono pubblicamente accessibili. Siccome invece in Puglia erano pubblicamente accessibili i dati di notevole dettaglio con i flussi mensili di raccolta e i rifiuti soliti urbani, ci siamo rivolti a questi e abbiamo cercato di capire, costruendo un'ipotesi, diciamo, di stagionalizzazione dei flussi turistici in periodo estivo, abbiamo costruito un indice di stagionalità che guardava fondamentalmente il rapporto espresso in percentuale fra la raccolta di rifiuti nel mese di agosto e la media della raccolta negli altri 11 mesi. Cominciano ad emergere diciamo alcuni indizi come per esempio vedete l'enorme sperequazione che si ha in un centro turistico come Porto Cesario, però anche qui non è una, come dire, prova di fine, sarà un indizio ma non è una prova definitiva perché per il resto i comuni appartenenti a sistemi e tipologie diverse risultano mescolati. È andata leggermente meglio con un banale ritorno ad analisi territoriali se vogliamo tradizionali cioè in termini di variazione della popolazione abbiamo usato questo nel brevissimo periodo perché faceva parte del pacchetto di dati però poi è stato confermato col trend negli ultimi 50 anni effettivamente qual è la cosa interessante che già così quindi combinando una molteplicità di dati per esempio si arriva a distinguere due diversi processi che portano a risultati simili in termini di elevato consumo di suolo pro capite e di variabile ma tendenzialmente significativa quota di abitazioni non occupate e cioè ci sono comuni a forte vocazione turistica come i primi due in particolar modo e poi invece c'è un gruppo consistente di comuni gli ultimi sei che fanno parte di un sistema dove è nato un chiaro processo di spopolamento e che hanno quindi esigenze e problemi completamente diversi dal punto di vista delle dinamiche socio-economiche nei quali l'obiettivo di risparmio di suolo probabilmente deve essere affrontato anche a fronte di metriche specifiche sull'uso delle coperture del suolo relativamente simili con approcci radicalmente diversi qui vengono semplicemente identificati volendo sintetizzare il le lezioni in qualche modo che al momento crediamo di aver appreso almeno che stiamo cercando di mettere in pratica ci sono almeno tre aspetti che sono fondamentali pur in questo atteggiamento ripeto costantemente adattivo che a nostro avviso va assunto ci sono almeno tre aspetti che un buon indicatore di consumo di suolo laddove voglia guardare la capacità di incidere realmente poi sui processi di territorializzazione dovrebbe avere il primo è quello che deve misurare l'intensità d'uso del suolo cioè che cosa avviene nelle superfici artificiali in particolar modo e lo deve fare guardando ad una diciamo accezione abbastanza ampia degli utenti dei vari tipi dei sudi urbani che comprenda i residenti e questo avviene abitualmente sicuramente però anche una misura dell'intensità delle attività produttive può essere diciamo gli occupati poi ovviamente si fa necessità virtù in base ai dati disponibili ma probabilmente e questo esempio che sto mostrando in effetti tiene insieme gli abitanti residenti e gli occupati ma è calcolato a livello comunale ma anche probabilmente i flussi turistici che in alcune realtà sono particolarmente importanti e hanno una portata esplicativa abbastanza importante rispetto ai fenomeni che si osservano secondo aspetto è relativo al fatto che bisogna scegliersi bene la scala o meglio l'unità di analisi alla quale applicare le metriche se si devono tenere insieme la funzione residenziale e quella produttiva probabilmente i sistemi locali del lavoro oggi sono una delle unità di analisi più efficaci e più promettenti prima ricordavamo però il ruolo del turismo a questo punto di vista probabilmente non ci potrebbe essere una piccola sfasatura però sicuramente sarebbe già costituirebbe a nostro avviso un passo in avanti abbastanza rilevante rispetto alle analisi alla scala comunale infine e questo è un tema altrettanto importante le metriche non possono a nostro avviso non distinguere fra le tipologie cioè non essere basate anche su carte tematiche di uso del suolo che abbiano un'accuratezza tematica nel discriminare i diversi usi che ovviamente diciamo i repertori monotematici che sono però quelli che stanno vivendo lo sviluppo più esplosivo del quale sicuramente bisogna sapersi avvantaggiare ma a nostro avviso non esauriscono la domanda di informazioni che invece è fondamentale cioè essere in grado di riconoscere i diversi usi perché altrimenti ripeto ancora una volta non si comprendono quali sono gli specifici processi di territorializzazione ad esempio in questo caso non è particolarmente leggibile però un conto è la situazione che si è verificata negli ultimi diciamo fra il 2006 e il 2011 in alto a destra fra Brindisi e Mesagne dove una grande quota del nuovo suolo consumato è ascrivibile agli impianti di produzione di energia rinnovabile e un altro conto è in alto a sinistra la situazione di un grande comune di un grande centro della Valle d'Itria dove invece si ha una appunto dispersione di oggetti edilizi riferiti a funzioni residenziali ancorché con una forte connotazione turistica senza una cartografia tematica di uso del suolo questo diciamo è difficilmente comprensibile salterei un paio di considerazioni e arriverei invece ad un breve richiamo al lavoro che come vi dicevo era l'oggetto specifico del contributo che abbiamo inserito nel rapporto Cere-Ces di quest'anno dicevo che è risultato abbastanza evidente da tutte le analisi a copertura nazionale che sono state illustrate oggi che in Puglia ci sono delle condizioni di forte frammentazione barra dispersione dei suoli urbanizzati addirittura se guardiamo all'indicatore che Ispra propone come segnalazione del fatto che gli impatti del consumo di suolo vanno molto al di là del suolo direttamente occupato a superficie artificiali risulterebbe nella versione diciamo più cautelativa che l'87% del territorio quasi 88% del territorio pugliese sarebbe in qualche modo diciamo affetto dalle conseguenze di questa dispersione urbana in particolar modo il gruppo di ricerca coordinato dal professor Romano all'università dell'Aquila poi ha in qualche modo contribuito a definire meglio di quale forma di dispersione urbana o di crescita urbana si tratterebbe con un metodo che è applicato a tutte le regioni italiane e dal quale adesso diciamo sono riuscito a inserire in queste immagini soltanto i grafici che riguardano regioni meridionali e centrali però fondamentalmente quello che si rileva è che la Puglia e la crescita urbana in Puglia è stata di tipo disperso in tre quarti della superficie territoriale e in effetti questo in qualche modo diciamo conferma al di là dei dettagli metodologici l'indicazione ricevuta dal lavoro di Ispra abbiamo quindi non mi dilungo perché a parte che diciamo è pubblicato però secondo me esula un po' dal tema della sessione odierna quindi adesso non voglio entrare nel merito degli aspetti metodologici di questo indice che è un indice che fondamentalmente vuole provare a descrivere in modo proposto sempre dal gruppo del professor Romano vuole provare a cogliere meglio quella forma di dispersione urbana che è stata definita sprinkling per differenziarla dallo sprawling e quindi per distinguere la sua natura di estrema polverizzazione di totale discontinuità fra i diversi oggetti territoriali e anche diciamo di mix fra funzioni diverse e di dimensioni di densità molto basse e dimensioni estremamente ridotte dimensioni che quindi tendenzialmente possono essere colte soltanto con alcuni dati e non con altri cioè dove l'unità minima cartografabile sia compatibile con le dimensioni di questi oggetti che spesso sono singoli manufatti in effetti quello che abbiamo notato è che questo lo salterei quello che abbiamo notato scusate un attimo è che il ci sono sembrano dall'applicazione di quest'indice sembra di poter confermare che la maggior effettivamente che la maggior parte del territorio pugliese sia interessato da delle forme di dispersione urbana abbastanza estrema esistono pochi termini di riferimento uno studio fatto da romano sull'Umbria esistono diciamo va ancora affinato però tendenzialmente sembra esserci valori mediamente molto elevati che in particolar modo schizzano verso l'alto in tre sistemi territoriali due fondamentalmente cioè la valle di Itria è parte della costa fra Bari e Brindisi che è quella grande diciamo macchia scura centrale la parte sud occidentale del Salento e poi e questo però è molto interessante anche alcune zone della Puglia centrale intorno ai grandi centri agricoli le agrotowns come sono state definite del nord barese quindi Corato Andria questo è interessante perché uno degli aspetti che si rileva è che questa forma di dispersione urbana cioè lo sprinkling sembra essere particolarmente pervasiva nel senso che da un lato rafforza sistemi insediativi già per natura diffusi come la campagna abitata della valle di Itria dall'altro però in qualche modo sembra sembra essere in grado anche di invertire dei processi di territorializzazione di lunga durata come appunto quella presenza di campagne quasi totalmente disabitate intorno a questi grandissimi centri che hanno stati per l'appunto etichettati con il nome di agrotowns e questo sembra in qualche modo non spiegabile unicamente in termini di quelle ovvie condizioni anche quelle erano state ricordate in generale per l'Italia in Puglia sono particolarmente applicabili cioè ovviamente un'orografia che in realtà non offre grande resistenza nel nostro territorio regionale una densità del reticolo stradale minore estremamente fitta e anche una marcata frammentazione fondiaria ci sono sicuramente questi fattori però non sembrano essere diciamo sufficienti a spiegare il fatto che si verifichino delle forme di dispersione urbana estrema cioè di sprinkling in sistemi territoriali molto diversi anche il terzo è quello del Salento sud-occidentale un'ulteriore tipologia queste micro conurbazioni quindi in realtà in tutti e tre questi sistemi si verifica una intensa crescita per dispersione frammentata allora al nostro avviso e qui concludo e ritorno a quello che ho provato a ripetere per misurare per dare un senso alle misure di consumo di suolo non si possono bisogna riconoscere che i diversi aspetti dei processi di territorializzazione sono inscindibili in particolar modo quindi che le dinamiche socio-economiche non possono mai essere messe fra parentesi allora probabilmente anche per lo sprinkling bisognerà in qualche modo affinare meglio un tentativo di comprensione quali siano queste dinamiche socio-economiche così come lo sprawl è stato associato fondamentalmente a una diluizione delle forme delle densità abitative delle intensità d'uso dei suoli che era comunque associata anche all'insorge di fenomeni marcati di pendolarismo nel caso dello sprinkling bisognerà approfondire la diciamo la funzione esplicativa delle misure probabilmente i primi temi che cominciano a emergere sono quelli di una forma di suburbanizzazione sì ma stagionale anche questo è stato ricordato che è associata questa volta non tanto al pendolarismo quanto a forme di multiresidenzialità nelle quali si riconoscono sia fenomeni assolutamente noti e tradizionali e seconde case che tendenze un po' più recenti ed emergenti come possono essere forme di commercializzazione di paesaggio agricolo legate a cosiddetto turismo previdenziale o al turismo delle origini questi sono fenomeni più recenti e sicuramente molto interessanti da studiare grazie 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 grazie